Era quello che avevamo proposto quando era il governo, quando la sinistra si era sollevata, urlandoci, ce l'avete col pubblico dipendente e altri. Non possiamo semplicemente mettere dei tornelli, quando uno entra timbra e se non timbra non riesce a passare, e quando uno esce timbra e se non timbra non riesce ad uscire. Questa cosa qua può permettere a tutti di rimanere dentro o fuori, se lavorano o non lavorano. Per lo meno sappiamo che sono dentro la struttura. Mi sembra una cosa molto semplice, che viene utilizzata in molti casi in strutture già presenti sul territorio nazionale, che viene utilizzata anche nel privato, è una certificazione su una dentro e fuori. E personalmente questo dibattito triste, se c'è il dirigente che va a insegnare, se c'è il dipendente che sta nel parcheggio, se altro verrebbe meno. E garantiamo che chi viene pagato dal pubblico lavori e sta dentro il posto di lavoro. Mi consentite. Perché a tutti i quali diciamo tutti che sono cattivi, ma non risolviamo mai il problema. Mi consentite. Forse è una proposta concreta. Certo.